ciao amici noi siamo i due bomber del freestyle bombes ci siamo è il momento di una grandissima challenge l'avete già capito dal titolo ovvero alè preparati perché il nostro grande purti potrà parlare solamente di rovesciata comunque acrobazie con i piedi quindi rovesciata mezzo sforbiciata di male con le mani quello che vuole i due bomber contro donna rum no ragazzi non si tratta più niente conquisteremo il mondo allora bombers il concetto sarà quello di effettuare questi 3 7 da 6 tiri totali tra io e tre zap ovviamente gol varrà il punto per i due bomber e la parata in acrobazia il punto per il nostro gran portiere direi 18 tiri totali che venga il migliore 1 a 0 non vale non vale non ci credo raga non ci credo raga rimaniamo in replay fermo immagine voglio un fermo immagine è incredibile è il momento del rigore non si tocca con le mani un pallone da calcio rigore no no bombers primo step è andato un punteggio di 4 a 2 il nostro punti forse farà meglio senza mani che con le mani vamo vamo non ci credo ragazzi no e penso che questa sia una cosa infattibile abbiamo già perso due palloni grazie ragazzi io ci rinuncio, tre palloni in meno Punteggio momentaneo prima dell'ultimo set siamo 8 a 4 ragazzi c'è punteggio incredibile c'è una cosa che non si può vedere in questo mondo che è un portiere si è più forte a pararla senza mani ma gli ultimi sei tiri vediamo un po' zap è il momento di livella no vabbè ma che cosa ma quella finchia ma vettila ma vettila ma ci vedo vai in ghita raga vai in ghita raga cosa succede in sto video attenzione ecco la è incredibile la rovesciata c'era e la rovesciata c'era 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 quasi ragazzi un contenuto incredibile un qualcosa di mai visto un qualcosa che in questo modo non mai vedremo che roba però ci mancava la rovesciata di ale cioè io vorrei vedere la rovesciata di ale non ci credo ragazzi ora si può chiudere il video mi raccomando ragazzi qua sotto ti iscrivi al nostro canale ale il 3 destro altri due video grande ale poi mai aver vinto senza mani senza usare le mani in realtà non è che erano utili semplici perché li hai presi tutti difficilissimo grande abbiamo reso contento ragazzi se vuoi essere un po bene iscrivetevi sul canale dei due mamma 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 Grazie.